Avete a che fare con Giulio o con Paolo? Con Giulio. Con Giulio. Com'era? Li conosceva lei? Tutti e due i fratelli li conosceva bene? No, bene no. Sono tre anni che sono qua, li conosco. Che persone erano? Che persone erano? Molto riservate. Hanno avuto tante di quelle donne in casa. Non è che di soltanto confidenza. Uno lavorava e l'altro era... Uno lavorava e l'altro no? Questo non glielo so dire, perché loro hanno rilevato il negozio a questo qui di fianco da un paio di mesi, due o tre mesi. E non li ha visti in quell'occasione? Lui si è chiamata la scorsa, ma erano sempre normali. Quindi depressione, non lasciavano intendere. Per me sono uguali da dieci anni, perché li vedo tutti i giorni, forse è sempre uguale. Frequentazioni ne avevano di qualunque tipo? Questo non glielo so dire. Grazie. Lo so dire perché io quando chiudo il negozio alle sette e mezza, dopo vado a casa e dopo non lo so. L'ultima volta la scorsa settimana li hai visti? Sì, sì. Oggi lunedì, li ho visti venerdì. E li hanno detto qualcosa di particolare? No, 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 come sempre, solito, buongiorno, 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 se sei in una tavola... Come si chiama? Fausto Rubinzani. Rubinzani? Rubinzani. Grazie. Grazie. Grazie.